Rosario Aversano, ciao Rosario, buonasera a te. Ciao, buonasera a tutti. Rosario, allora a te, per forza di cose, dobbiamo chiedere quali sono le ultime notizie da Barcellona sull'emergenza coronavirus e se a questo punto credo che c'è l'ufficializzazione del match di Champions che si disputerà regolarmente al Camp Nou. Sì, no, al momento la situazione è abbastanza grave, però è sotto controllo. Per cui è abbastanza protetta la cosa. Quindi tu credi che non ci sia lo spazio per un cambio di sede? No, credo di no. A questo punto credi che la UEFA si prenderà le sue responsabilità perché poi il punto della questione è proprio questo. De Laurentiis, al di là poi del giusto allarmismo che ha fatto trapelare nel corso di queste settimane, lui chiede alla UEFA di assumersi le proprie responsabilità in caso di danni. Mi sembra molto chiaro e mi sembra chiaro anche il punto di vista del legale del Napoli-Grassani. Secondo te a questo punto ci sarà proprio un quartier generale blindatissimo per il Napoli? Sì, credo di sì. Il Barcellona comunque vuole assolutamente giocare qui, per cui avrà dato delle garanzie alla UEFA e saranno le cose fatte in un certo modo. Ma quanti contagi ci sono in Catalogna oggi? Oggi stavamo sui 1.100. E sono tantissimi, è una situazione veramente grave. Rosario, dal punto di vista sportivo invece qual è la formazione che i giornali stanno rilanciando in questi giorni per quanto riguarda il Barcellona? Secondo te Setien si affiderà alla formazione tipo e qual è questa formazione tipo? Io leggevo soltanto i tre nomi in attacco e mi vengono i brividi. Messi, Suarez e Griezmann. Sì, al centrocampo ci saranno, almeno Setien sta lavorando su questa formazione, De Jong, Rakitic e Sergi Roberto. Buttali via. E indietro Semedo a destra, Jordi Alba a sinistra e la coppia Lenglet-Piquet. Beh, quindi credo che sia una formazione... E porta Taracinesca per Stegen che... Rosario, io credo che il Napoli debba prima di tutto pensare a non prenderle perché con un tridente d'attacco così importante il Napoli dovrà fare molta attenzione. Però credo che, come diceva anche Donato Martucci prima, avallando poi il discorso che faceva anche Antonio Papa, io credo che il Napoli abbia la possibilità in attacco di far male e quindi chiedo anche a te un pronostico e secondo te se non dovesse giocare Lorenzo Insigne chi potrebbe giocare al suo posto? Allora, io sposo se non dovesse giocare Insigne ho l'idea di Elmar. Che tra l'altro Gattuso ho già riproposto diverse volte. Esattamente. E andarli a prendere su non mi sembra una grandissima idea perché loro riescono col palleggio a venirne fuori e possono farti male. Io nemmeno rimanere tutti indietro, tipo come l'Inter, il ritorno di Coppa Italia, fare una partita attenta però dimostrando che sei lì per far male. Io credo che Gattuso debba riprendere un po' il suo concetto tattico che ha dato la possibilità al Napoli di riprendersi in corso d'opera prima dello scoppio della pandemia, cioè quello di essere accorti davanti alla difesa. Non so Antonio Papa se è d'accordo con me e poi ripartire in grande velocità visto che il Napoli ha le caratteristiche per andare su in contropiede. Antonio? Il problema è che in questa partita qui c'è una variabile diversa. Il fatto che comunque il Napoli è di fatto in svantaggio di un gol perché deve intanto segnare, quindi deve provare a fare la partita in qualche modo perché il risultato dell'andata pesa. Quindi non può fare una partita troppo attendista, non può chiudersi troppo perché comunque rispetto a quando ha affrontato l'Inter in Coppa Italia e partiva da un vantaggio importante di 1-0 adesso invece deve comunque riuscire a segnarlo il gol perché altrimenti non riesce a passare il turno. Quindi anche in questo sarà curioso capire Gattuso come la imposterà proprio perché di fatto il Napoli è una squadra che deve rimontare nonostante all'andata ci sia stato un pareggio. Rosario? Sì, però consideriamo che il Barcellona, a differenza di molte squadre italiane non è una squadra che gioca per difendere il risultato. Certo. Certo, avendo fatto il gol fuori casa nemmeno giocherà all'impazzata. Per cui bisogna fare una partita accorta secondo me però dando l'idea di voler far male. Perché se sei una partita dove all'inizio ti chiudi con il tridente del Barça due o tre gol cadono sicuri. Rosario, per concludere, quanto potrebbe essere importante per il Napoli il fattore campo? Cioè nel senso che il Barcellona di solito quando non ha il suo pubblico che soffia, che dà alito alle sortite offensive della squadra abbiamo visto anche in campionato che il Barcellona senza pubblico non si esprime come quando ci sono 90.000 persone. Quanto potrebbe essere importante per il Napoli questo aspetto? E' un piccolo vantaggio. Però più che altro bisogna vedere la personalità dei giocatori perché un Camp Nou, anche vuoto, può crearsi difficoltà. E poi il Camp Nou, lo ricordiamo, è più lungo e più largo rispetto alla media dei campi europei. Quindi il Napoli dovrà fare molta, molta densità soprattutto in chiave di palleggio, io credo. Perché il Napoli quando gioca in orizzontale è molto bravo. Quindi secondo me questo aspetto qui potrebbe essere utile. Poi per quanto riguarda la profondità, la lunghezza del campo i contropiedisti del Napoli, penso a Mertens, penso a Lozzano penso anche a Politano perché poi abbiamo escluso la possibilità di vedere Politano in campo con Mertens e magari Lozzano oppure Cagliecon, non lo so. Io credo che Gattuso ci stia riflettendo bene. Ti ringraziamo per essere stato con noi Rosario. A presto e buon Barcellona Napoli a te.